John Borno, John Borno amici qui sul secondo canale, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare voglio chiedervi una cosa, voglio farvi una domanda, voglio dirvi secondo voi la decisione di rinviare l'europeo al 2021, quindi renderlo Euro 2021 e non più Euro 2020 è giusta, è corretta o è sbagliata? E soprattutto perché? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Ovviamente metterò a cuore a chi appunto commenterà in tal senso. Vi chiedo di lasciare mi piace qualora insomma il video mi piacesse e di iscrivervi soprattutto a questo canale che sto spingendo tanto e appunto spero che appreziate il mio impegno. Allora detto questo, ieri c'è stata l'ufficialità, ho preferito non parlarne perché ultimamente sto parlando di calcio e anche oggi sul primo canale parlerò di calcio. Però penso che uno spazietto anche sempre inerente al calcio ma in vista di Euro 2021, quello che ora è diventato Euro 2021, lo si può tranquillamente ritagliare, si può tranquillamente pensare di parlare per uno spazietto di Euro 2021 su questo secondo canale. Vi ricordo che oggi alle ore 18 qui sul secondo canale una mezz'oretta faremo la solita diretta insieme che sta andando sempre meglio. Allora, parliamone, parliamone. Ieri la UEFA si è trovata a spalle al muro, addirittura aveva detto che per rinviare Euro 2020 chiedeva 300 milioni. Questo fuori usciva dalle varie dichiarazioni, indiscrezioni, quello che si riusciva a captare. Alla fine anche loro hanno dovuto alzare le mani, alla fine anche loro hanno dovuto andare ad arrendersi perché poi l'emergenza non è attuale in Italia e basta, l'emergenza addirittura sarà superiore a quella che è adesso nei vari paesi, in Inghilterra, in Francia, in Germania e quindi è normale iniziare a muoversi in questo senso. Secondo me, secondo me l'Europeo 2020 doveva essere rinviato senza troppi dubbi. Uno perché i campionati devono finire, devono concludersi e deve succedere per il bene della UEFA perché la UEFA in questo momento innanzitutto non ha nemmeno tempo di concludere le sue competizioni, Champions League ed Europa League, non ha modo di giocare gli ultimi spareggi della National League importanti per l'Europeo, così come non ha modo nemmeno ovviamente di far concludere i campionati, i campionati che permetterebbero alle squadre di accedere in modo corretto alle prossime competizioni UEFA. Quindi diciamo che sì, magari loro volevano sbrigarsi per fare più competizioni velocemente possibili eccetera per guadagnare, però qualora avessero messo gli europei, vi sono lasciato gli europei a giugno, anche a livello economico perché poi sì, vogliamo parlare di un lato morale, sì, però non è che attivare la gamma a questi livelli, poche cose fanno con moralità. Parliamo del lato economico, comunque gli andava in culo alla UEFA, quindi la UEFA si è fatta due calcoli, ha detto preferiamo sporcarci l'anima come già stiamo facendo, quindi fare la figura dei taccagni, di quelli a taccare i soldi nonostante in sacco di gente stia morendo 300-400 al giorno, solo in Italia tra l'altro, solo in Italia. Poi vogliamo appunto che non si continuino i campionati, che rischi di non andare in porto alla Champions League e tutte queste cose qua o preferiamo invece spostare Euro 2020 e Euro 2021, farlo comunque in tranquillità nelle varie città, magari, magari riuscire a piazzare questa Nations League quasi si amichevoli da qualche parte, ora vedremo se in estate, se prima dell'europeo, visto che poi le qualificazioni non ci saranno ma le pause del prossimo anno saranno comunque posizionate nel giusto modo e probabilmente hanno preso quella strada lì, probabilmente hanno scelto questa cosa qua, che secondo me finalmente è una cosa anche abbastanza intelligente, sia nel lato umano, perché serviva che questo accadesse, ma anche nel lato economico, perché poi andiamo ad analizzarla sotto quel punto di vista, anche sul lato economico hanno fatto una cosa che comunque è secondo me piuttosto corretta. Ora, la domanda è questa, l'Italia ne trarrà vantaggio dal rinvio dell'europeo 2020 al 2021? Io penso di sì, io penso di sì, ovviamente qualche calciatore che rientrava nella cerchia dei convocati proprio perché c'era poca gente nel suo ruolo, un po' rosicherà, però sono tutti calciatori che dovranno guadagnarsi il posto, sono tutti calciatori che dovranno guadagnarsi con il sudore, con il sacrificio, con la voglia di fare, con tanta 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 cattiveria in campo, il posto ad Euro 2021. Io sto pensando ai vari calciatori che in questo momento non sarebbero rientrati in quella cerchia lì, perché? Perché giocatori come Castrovilli, giocatori come probabilmente, vediamo chi mi viene in mente, mi viene in mente sì, Castrovilli ve l'ho appena detto, mi viene in mente Tonali, sono calciatori che adesso dovranno dimostrare nella prossima stagione che quello che hanno appena fatto non è un fuoco di paglia, quindi dovranno dimostrare di essere più, di essere più di ottimi giocatori, dovranno dimostrare di essere dei veri e propri calciatori forti, forti per il futuro della nostra nazionale. In quel caso probabilmente Mancini li terrebbe in considerazione, ma anche perché diciamo che per giocatori come Tonali, per giocatori come Castrovilli, che tipo Tonali aveva partecipato se non erano un paio di uscite della nazionale, ma era stato poco presente, nel senso che poi Mancini non l'aveva tenuto in considerazione nel giro dei titolari, per quell'idea secondo me c'erano poche speranze, anche perché Mancini lo ha proprio detto, ha detto ragazzi, chi è ormai quello che è fatto è fatto, è inutile che stiamo a parlare, è inutile che cerchiamo di infilare nei papabili partenti per l'europeo giocatori che non hanno mai fatto parte del gruppo, chi ha fatto parte del gruppo partirà, magari si vanno sciolti quei 3-4 nodi, però sono quelli. Adesso che l'hanno rinviato Mancini ha detto non ci importa vincerlo quest'anno o l'anno prossimo, se non possiamo vincerlo quest'anno perché non c'è, lo vinceremo l'anno prossimo, quindi è anche uno spirito bello che mi piace sentire Mancini in questo senso e dice ovviamente però dovremo un attimo rivedere le papabili partenze per l'europeo, dovremo vedere i convocati per l'europeo perché in questo modo qualcosina cambia. Penso a Bernardeschi, penso a Bernardeschi perché Bernardeschi è un po' un miracolato nel suo ruolo, nel senso che a Mancini piace molto e che il nazionale bene o male rende, è perfetto per il ruolo che gli viene chiesto, però ragazzi Bernardeschi è un anno che fa merda, è un anno che alla Juventus fatica enormemente, i tifosi della Juventus non lo reggono più e lui deve fare il salto di qualità perché o va via oppure la Juventus gli dà quell'importanza che difficilmente gli è stata data, lui probabilmente lo sente, sente il peso del fatto che abbia fallito per il momento ed è per questo probabilmente che Bernardeschi è così discontinuo. Io credo che se Bernardeschi dovesse fare una stagione come quella appena fatta e Berardi per dire dovesse fare una stagione come quella appena fatta, probabilmente i due si livellerebbero appunto sulla stessa riga perché Berardi giocatore che doveva spaccare il mondo negli ultimi anni si era un po' ancorato, era un po' sparito ma comunque in questa stagione insieme a Bocchè Caputo ha fatto veramente le buche. Bernardeschi che doveva far benissimo, si è abbassato drasticamente, prendo due nomi che sono proprio agli antipodi e quindi non mi sorprenderai qualora appunto Mancini decidessi di rivedere appunto le sue scelte. Scordatevi la difesa a tre, ve lo dico immediatamente, anche se c'è un anno in più, anche se sarebbe interessante perché avremo giocatori da difesa a tre come Michelini, Bonucci, Acerbi, come Mancini della Roma che appunto a tre si trova benissimo e fa anche abbastanza gola. Avremo degli esseri di centrocampo perfetti per giocare con un 3-5-2, mi viene in mente a sinistra Emerson Palmieri, mi viene in mente a sinistra lo stesso Spinazzola, mi viene in mente a destra Lazzari, Manuel Lazzari, mi viene in mente a destra Candreva che sta gioando molto bene con l'Inter, la nostra Italia sarebbe disegnata perfettamente con un 3-5-2, quindi per dire, per dire, Donnarumma tra i pali, poi Acerbi, Bonucci, Chiellini, anche se poi ci sono due centrali dei tre, quindi magari metti Mancini, ma vedi tu insomma Romagnoli a tre farebbe un po' più di fatica, a destra metti Manuel Lazzari, a sinistra vai a mettere probabilmente Emerson Palmieri o Spinazzola, quindi come vi ho detto poco fa sulla mediana fai giocare Giorginio, poi Verratti e Barella, perfetti per il 3-5-2, tra l'altro Barella che è cresciuto nel 3-5-2 con Conte quest'anno, quindi insomma non avrebbe nemmeno troppi problemi, Giorginio a fare il mediano di un centrocampo con due mezzali ci si trova benissimo e poi appunto avremo tante possibilità di seconde punte, giocatori come insegne che può fare la punta d'accompagnamento per dirne una, con appunto il centravanti che dovrebbe essere Ciro Immobile, sarebbe una squadra disegnata per il 3-5-2, ma Mancini non è e non è mai stato una natura da 3-5-2, quindi probabilmente non giocherà con il 3-5-2, scordatevelo, e poi l'Italia, in questo momento giocare per l'Italia, giocare con il 3-5-2 sarebbe un enorme, una gigantesca perdita di tempo perché bisognerebbe ricominciare da capo. Concludo con l'ultimo noto da sciogliere, sono curioso di vedere Petagna cosa farà? Penso che il Napoli lo parcheggerà da qualche parte, non credo che il Napoli sia pronto a dare la titolarità a Petagna, sillurando quindi Mertens e Milik, credo che Petagna voglia giocare, secondo me Torino la butto là, e se Petagna dovesse appunto far bene al Torino prendendo il posto di Belotti, arrivando tipo a fare 12-13-14-15 gol, ecco soprattutto 15 gol, credo che in quel caso Mancini inizierebbe anche a pensare di poterlo portare per il sacrificio che un calciatore del genere ti dà in avanti per appunto la possibilità di avere un tipo di gioco diverso da quello che ti garantirebbe Ciro Immobile. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi chiedo come sempre di lasciare tantissimi mi piace qui sotto, vi chiedo come sempre di lasciare il vostro commento per farmi sapere, per rispondere alla domanda che ho fatto all'inizio. Grazie per questo video, buon salato all'alleno come sempre, ci vediamo in un prossimo video, in questo caso e ovviamente per il secondo canale alle ore 18 in live, se no ovviamente come sempre sul primo canale, come ogni giorno. Ciao raga!